Guarda cosa hai fatto, guarda, la mamma è già a metà, l'avevi srotolato tutto, sei contento? Guarda, perché adesso tu, siccome mangi qui per imitare Mosè, adesso ti senti padrone di fare quello che vuoi. Eh? Lucy, parlo con te, non voglio che srotoli sempre questo. Guarda quanto ci mette la mamma a tirarlo su, guarda come viene male, guarda, che nervoso che mi fai. E qui, questo qui, te l'ho dato stamattina, è ancora fresco, ma tu vuoi che io faccia così? Cos'è, non ti va bene? Perché non ti va bene? Io non compro mica il polletto tutti i giorni per buttarlo via, eh? Uè, guarda che schifezza, guarda, guarda com'è venuto, cosa vuoi? Si può sapere cosa vuoi? Questo qui, io te lo lascio qui, come in collegio, lo devi finire, lo devi finire perché è fresco, fammi... No, questo un po' puzza, hai ragione, un po' puzza, forse ti ho mischiato due porzioni, una più vecchia. Lucy, prova questo, questo non puzza. Lucio, vabbè, adesso lo butto questo, cosa devo fare? Te lo faccio nuovo? Guarda quello là che aspetta il suo turno, guardalo, una statuina. Mosè? Sì, lo so, mi stai aspettando. Lucy, te lo butto via, va bene? Lo butto e rifaccio tutto da capo, se non è schiavitù questa, guarda che la schiavitù è stata abolita, eh? No, niente, niente, lo devo buttà, lo devo buttà, lo devo rifà.